Un'azione già pronta a partire, sul piano generale c'è qualche incertezza in più. Nessuno da anni percorre più la storica pista di Bob dedicata a Eugenio Monti, ma qualcuno scivolerà lungo il nuovo tracciato che dovrebbe essere pronto per le Olimpiadi del 2026? L'aumento dei costi di realizzazione ha portato a una riflessione aggiuntiva sulla fattibilità dell'operazione anche nelle stanze, come quelle della regione, in cui si è respirata la maggiore convinzione della bontà della scelta di costruire il nuovo impianto. Al momento c'è un passo in avanti e non pregiudica alcuna scelta in un senso o nell'altro. Il comune di Cortina, infatti, ha annunciato il via libera allo strip-out del vecchio impianto, ovvero alla rimozione degli elementi non edilizi. In sintesi, la pista verrà spogliata di diversi elementi accessori e rimarrà quasi solo la sede di tracciato. Benché tale fase sia preparatoria alla successiva realizzazione della nuova infrastruttura sportiva, spiega il sindaco Gianluca Lorenzi, l'intervento mira comunque a preservare le condizioni morfologiche e altimetriche del sedime della pista storica, profondamente radicata all'interno di un palinsesto fortemente identitario per la comunità locale. C'è il via libera della soprintendenza anche perché non si butterà via nulla. I manufatti dell'ex partenza, della cabina S e della diacente curva Antelao, nonché i tratti iniziali terminali del tracciato storico, verranno rifunzionalizzati in chiave espositiva, definendo in tal modo una passeggiata lungo lo storico sedime. Un memoriale della struttura delle Olimpiadi del 1956 in attenza di capire che ne sarà di quella per i giochi invernali del 2026. L'operazione costerà 2,2 milioni di euro a fronte dei quasi 80 stimati per la realizzazione della nuova pista, inclusa la demolizione della vecchia. Il nuovo impianto si farà oppure si gareggerà a Innsbruck? Anche la provincia attende una risposta. Da parte nostra, commenta il presidente Padrin, rimane la convinzione che l'appuntamento olimpico e paralimpico rappresenti un grande momento per il territorio, non tanto e non solo per l'evento sportivo, quanto per la legacy che potrà creare. Restiamo dunque in attesa di capire quali considerazioni verranno portate avanti sulla questione.